Musica Bentornati all'appuntamento con la rubrica di approfondimento di Piave TV, 20 minuti Veneti. Questa settimana nello spazio a nostra disposizione ci occupiamo di medicina, in particolare di un importante riconoscimento ad un giovanissimo medico del territorio, un medico di Portogruaro a solo 31 anni e ve lo vado subito a presentare. Oggi in studio con noi abbiamo il dottor Lucio Danna che è neurologo presso la clinica di neurologia dell'università degli studi di Udine, anche dottorando di ricerca presso il dipartimento di psichiatria e psicologia delle neuroscienze del King's College di Londra. Ma oggi è qui con noi, dottore, questo è il suo curriculum già giovanissimo, 31 anni, diciamo un percorso di studi molto importante. Oggi è qui perché lei ha ricevuto uno dei più importanti riconoscimenti internazionali e si tratta infatti dell'International Scholarship Award. Dico bene, è uno dei riconoscimenti più importanti da parte di una società statunitense che si occupa di neuroscienze. Allora, questo premio perché, dottore? Buongiorno e grazie per l'invito e saluto a tutti i telespettatori. Il premio si basa su, diciamo, di una ricerca che è stata fatta in ambito di una collaborazione americana e inglese per lo studio di uno particolare tipo di demenza, che si chiama FASIA PRIMARIA PROGRESSIVA, che è una demenza che colpisce le aree del linguaggio, producendo un impoverimento progressivo in questi pazienti delle capacità linguistiche. Il nostro obiettivo però è stato quello di individuare, mediante una tecnica denominata trattografia, che è focalizzata nel studio della sostanza bianca, quali fossero però, diciamo, i criteri anatomici che sottendessero alle anomalie comportamentali in questi pazienti, che si possono sviluppare a distanza di alcuni anni e che sono molto invalidate sia per il paziente, ma anche per il caregiver che deve assistere questi pazienti. Abbiamo individuato che un particolare tipo di fascicolo, che collega due aree critiche per quanto riguarda il linguaggio, quando è in corso di degenerazione, può produrre dei disturbi comportamentali in questi pazienti. Quindi riteniamo che forse potrebbe avere anche dei risvolti futuri per quanto riguarda una diagnosi più precoce e anche forse una terapia in futuro in questi pazienti. Beh, diciamo che è una ricerca che l'ha occupata abbastanza, però da quanto si occupa di ricercare su questo tipo particolare di demenza? Beh, i primi passi li ho mossi nel 2011, però ho lavorato 6-7 mesi proprio su questo settore, proprio su questo tipo di argomento, circa 6-7 mesi, però insomma i primi passi già dal 2011. Beh, io insomma lo sottolineo anche perché Lucio Danna, dottore neurologo, è un figlio d'arte, insomma, si può dire perché il papà è conosciutissimo, dottor Danna che è il primario del Dipartimento di Neurologia di Portogruaro e quindi ha seguito un po' diciamo le orme del papà nello studio della neurologia, di queste scienze? Beh, sicuramente, insomma, devo ringraziare il mio papà perché insomma mi ha sicuramente ispirato con la sua dedizione nel lavoro, con la sua passione nell'ambito della neurologia e quindi insomma poi mi ha anche, insomma, trasmesso, ho cercato di trasmettere sicuramente questa passione che penso che in questo lavoro sia passione. Assolutamente O veramente non si riesce a andare avanti Assolutamente, è davvero lodevole poi vedere un talento così giovane, si parla molto spesso dei nostri cervelli che fuggono dall'Italia invece lei è qui, lavora presso l'Università degli Studi di Udine, quindi abbiamo un grande talento adesso invece si recherà in America appunto per ricevere questa prestigiosa borsa di studio dal 18 al 25 di aprile, lei sarà a Washington e che cosa accadrà? Beh, a Washington insomma il programma prevederebbe due cerimonie di premiazione e anche diciamo una giornata in cui i ricercatori che sono stati selezionati devono esporre davanti a una platea di esperti i loro lavori per poter essere insomma appunto, per poter commentare insieme, per poter insomma condividere questo tipo di esperienza poi con tutto il mondo perché l'American Academy che ogni anno si tiene negli Stati Uniti, quest'anno è a Washington diciamo vede arrivare tutti gli esperti delle neuroscienze da tutto il mondo insomma non è un convegno prettamente solo americano ma diciamo forse è uno dei più importanti a livello internazionale ecco diciamo che l'International Scholarship Award premia 12 talenti nel mondo e lei è l'italiano all'interno di questi 12 quindi davvero una grande soddisfazione per il nostro territorio, per il Veneto perché lei è portogruarese ma per l'Italia tutta insomma è un riconoscimento importante, un premio importante per un giovane dottore torniamo indietro, facciamo un passo indietro dottore parliamo di questa particolare forma di demenza purtroppo sono malattie sempre più frequenti, posso chiamarle malattie? sì sì assolutamente sono malattie sempre più frequenti, molto conosciuta ai più è l'Alzheimer la demenza senile invece ha diverse sfaccettature sì, adesso diciamo che forse l'Alzheimer è la prima vera e propria forma di demenza forse anche forse è quella più nota, è conosciuta, più comune però diciamo che c'è, mettiamo più o meno occupa circa il 50% delle sfere della malattia degenerativa nell'ambito delle demenze, poi c'è un altro 50% che insomma sono diversi tipi di forme di malattie degenerative tra cui questa patologia che è relativamente recente perché insomma è stata individuata descritta diciamo descritta circa nel 1982 dal professor Marcel Mesulam e sono stati creati dei criteri diagnostici convalidati a livello internazionale per distinguere tra le tre varianti solo nel 2011 a livello proprio in modo strutturato per cui è relativamente nuova in questo ambito e forse certe volte anche misdiagnosticata Quando è difficile per un medico fare la diagnosi? Quando non si conosce la causa? La diagnosi? Qual è lo studio che un medico deve fare poi per fare una diagnosi e successivamente la cura, giusto dottore? Assolutamente La cura poi sarà un passo successivo ancora, adesso voi siete fermi sullo studio? Sull'ambito diagnostico, sicuramente la cosa più importante per quello che riguarda la mia piccola esperienza è l'anamnesi, è sicuramente importante ascoltare il paziente, ascoltare soprattutto chi vive con il paziente perché si scoprono tante cose che vanno messe insieme e che possono indirizzare il percorso di diagnosi e cura poi naturalmente un neurologo che abbia avuto un'esperienza in questo settore può indirizzare il paziente agli studi più appropriati in ambito sia di neuroimaging ma anche e soprattutto in ambito di ricerca di biomarker di neurodegenerazione la diagnosi non è in certi casi solo esclusivamente clinica ma è come un po' un puzzle dove si mettono insieme tutta una serie di tasselli per poter arrivare al quadro definitivo Ecco, dottore parliamo proprio nello specifico di demenza, quando cominciano ad esserci i primi sintomi? Quando un paziente deve iniziare a preoccuparsi e in base a che cosa? Quali sono i primi sintomi? E le tali in circa? C'è uno studio? Più o meno diciamo che l'esordio bisognerebbe un attimo discernere tra l'esordio clinico e l'esordio biologico della malattia perché ormai sappiamo che l'esordio clinico è il fenotipo, il fenomeno della patologia mentre in realtà il substrato biologico ormai gli studi ci indicano come sia molto molto prima anche diversi anni prima rispetto all'esordio vero e proprio clinico Mi rendo conto soprattutto per chi vive accanto per una persona soprattutto stare un pochino attenti ai cambi di tipo comportamentali ad alterazioni anche piccoli passi come ad esempio il fatto di trascurare la propria persona o trascurare ad esempio un hobby o il proprio lavoro o ad esempio avere anche delle dimenticanze che al momento possono essere banali ma quando poi sommati insieme fanno un po' suonare qualche campanello d'allarme Sa poi dottore ascoltandola collegato all'età uno dice vabbè arrivati a una certa età magari uno ha poca voglia di fare quindi è anche difficile poter diciamo vedere questi primi sintomi perché arrivati intorno all'età di 65 anni uno magari abbandona gli hobby perché è un po' stanco oppure si dedica ad altro per cui è veramente difficile poter... c'è altro che qualcuno deve osservare? Beh io su questo non sono proprio d'accordo perché consideriamo che fino a poco tempo fa aveva un Presidente della Repubblica che aveva quasi 90 anni per cui io penso che l'età sia anche una questione anagrafica Ed era iperattivo Esatto ed era iperattivo Ed era iperattivo Ma a volte qualcuno si chiude nel proprio... Assolutamente magari poi anche la pensione certe volte non facilita perché si abbandonano un certo tipo di vita si cambia assolutamente si entra in una vita più rilassata e quindi magari ci si può abbandonare Per questo non voglio creare allarmismi Certo Però se anche la moglie o il marito o i figli dovessero notare una serie di comportamenti tra virgolette che prima non aveva ma penso che magari un consulto, una valutazione magari prima passando dal medico curante non sarebbe del tutto sbagliato E poi il medico, diciamo lo specialista adatto per questi sintomi è il neurologo Sì, il neurologo generalmente dovrebbe essere lo specialista che forse più potrebbe tenere le fila di questi problemi e magari appunto richiedere gli esami più appropriati e anche interpretare gli esami, i rifarti di questi esami per meglio arrivare ad ogni anesi quanto più preciso Quali possono essere per esempio gli esami appropriati per andare a fondo in un'indagine di questo tipo? Una bella domanda, gli esami possono essere diversi Sicuramente, come ripeto, una visita curata secondo me fa più della metà della diagnosi Una visita nonata con un'intervista curata sia sul paziente che sui familiari Poi a mio avviso sarebbe anche opportuno richiedere una valutazione neuropsicologica dove si può quantificare in modo pratico, in modo oggettivo i deficit nei vari domini cognitivi non solo la memoria, ma ad esempio la linguaggio, la prassia, la memoria a breve termine, a lungo termine, l'orientamento, eccetera Poi si passerebbe la palla alla sfera dell'imaging quindi o un attack dell'encefalo o una risonanza magnetica e poi ci sono tutti gli studi di medicina nucleare come ad esempio la PET tra l'altro è da poco in commercio proprio un nuovo tipo di tracciante molecolare che va proprio a captare la betamiloide per cui insomma gli studi da questo punto di vista sono molto... fino ad arrivare poi alla ricerca dei biomarchi di neurodegenerazione con ad esempio tramite rachicentesi punturolombare però ripeto, sono tutti esami di secondo o terzo livello che naturalmente lo specialista, mi sento di dire, prima il medico di base poi naturalmente lo specialista dovrebbero appunto richiedere in base naturalmente al loro giudizio clinico perché sono appunto sempre esami anche di una certa invasività per cui insomma ci vuole un pochino di cautela sicuramente Assolutamente Il suo studio invece riguarda principalmente appunto dicevamo una forma di demenza che è quella poi anche che si nota nel linguaggio Esattamente Che cosa avviene? L'afasia primaria progressiva è stata per la prima volta descritta nel 1882 dal professor Massé Mesoam che ho avuto l'onore, con cui ho avuto l'onore appunto poi di collaborare io in questo studio Si tratta di una forma di demenza per cui i criteri ci dicono che nei primi due anni di patologia l'unico dominio cognitivo che viene colpito dalla malattia è il dominio del linguaggio Ci possono essere diverse forme di interessamento come ad esempio il paziente perde la capacità di denominare un oggetto oppure ad esempio inizia ad avere problemi come ad esempio problemi di ripetizione delle parole o fa degli errori grammaticali fino a perdere la conoscenza di cosa significa l'oggetto in sé Poi progressivamente la malattia è una malattia su base degenerativa quindi può diciamo per definizione anche diffondere anche ad altri domini come ad esempio sulla memoria Gli ultimi studi hanno identificato come essendo questa malattia andando a interessare aree del linguaggio ma anche aree dell'affettività, delle emozioni, del comportamento Alcuni report hanno effettivamente individuato come questi pazienti poi a lungo andare possono sviluppare dei disturbi comportamentali anche molto severi, molto importanti che richiedono anche l'ospedalizzazione, che richiedono l'uso di antipsicotici anche in modo pesante e però finora erano sconosciute le basi neuroanatomiche di questi disturbi comportamentali Noi abbiamo studiato mediante una tecnica che si chiama trattografia che va a studiare in modo selettivo come se facessimo una sorta di autopsia in vivo sul paziente andiamo, siamo andati a studiare in modo selettivo un fascicolo, di fascicolo di sostanza bianca abbiamo individuato che un particolare tipo di fascicolo che collega delle aree legate alle emotività, al comportamento era particolarmente colpito, degenerato e che si andava ad associare con le scale comportamentali con cui erano valutati questi pazienti quindi ci sentiamo di dire che alcuni tratti diciamo del nostro cervello alcuni proprio passaggi anatomici al nostro cervello possono avere delle influenze nell'ambito del nostro comportamento poi quando vengono colpiti Dottore, le cause di questi? La causa è un processo decenerativo Tante volte si dice il fumo, no? Esatto Perché può far male da una parte Alcuni cibi, allora si fa attenzione Attenzione al colesterolo perché può provocare danni alle arterie, alla circolazione, eccetera Ma è per questa cosa, dottore? C'è uno stile di vita che uno deve... Allora, la certezza matematica ancora non si ha e naturalmente a prescindere dalla demenza io mi sento di invitare degli spettatori a smettere di fumare ad avere uno stile di vita quanto più sano possibile perché comunque fa bene anche a 360 gradi Per cui, insomma, quello che mi sento di dire è che sicuramente può far bene sicuramente mantenere sempre in attività il nostro cervello e quindi anche con banali esercizi, non voglio fare pubblicità, ma tipo la settimana ghiministica Certo, vai sì Non ho conflitti di interesse No, 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 assolutamente Quindi mantenere la mente impegnata Adesso ormai tutti abbiamo un iPad, un iPhone Per cui ci sono diverse applicazioni che anche sono gratis che permettono di fare degli esercizi, 10 minuti al giorno di esercizi come ad esempio individuare dei numeri o delle barrette, eccetera Sono 10 minuti al giorno di esercizi che penso tutti noi possiamo trovare e mantenere, insomma Beh, soprattutto se parliamo appunto dello studio che lei sta facendo quel range di età, probabilmente anche molto più tempo rispetto a noi che siamo impegnati con il lavoro, eccetera Quindi questo tipo di attività, diciamo, mentale può aiutare a ritardare perché comunque lei mi diceva che è una malattia degenerativa Esatto E mi corregga se sbaglio Una malattia degenerativa non si può fermare, si può rallentare Esattamente, per definizione malattie degenerative al momento attuale si rallentano Infatti anche gli studi ci dicono che chi fa una terapia con i farmaci classici che vengono poi prescritti che sono diffusi Anche per la demenza Per la demenza, sì, ci sono dei farmaci che sono inibitori dell'aceticolinesterase, ad esempio di alcuni recettori con l'NMDA Diciamo che le curve, tra virgolette, di decadimento del paziente sono più rallentate ma, ahimè, non si può dettuto arrestare Purtroppo no Ci sono degli studi in corso però che speriamo possano andare bene con farmaci che approccierebbero con un altro tipo di meccanismo però, insomma, in questo momento sono ancora in fase sperimentale Torniamo anche alle famiglie perché è molto importante la famiglia in questo Il paziente, dottore, è consapevole di questo cambiamento oppure no? In alcune forme di patologia, sì, proprio nel nostro tipo di demenza e la consapevolezza, almeno nei primi anni, è intatta Infatti, i primi disturbi comportamentali che vengono fuori è proprio la depressione perché se lei pensa che, in particolar modo, questo tipo di demenza insorge po' prima, a livello di età rispetto all'Alzheimer magari si può trovare una persona, un manager, ad esempio pensiamo a un avvocato che è nell'apice della propria carriera, intorno ai 60 anni che inizia a perdere le proprie capacità linguistiche e se ne rende conto quindi penso che lui, lui o lei, insomma, possa vivere effettivamente in quel momento un grosso dramma personale perché, insomma, viene proprio meno la sua prima fonte di sostegno E secondo questi studi che lei sta seguendo c'è anche da parte del paziente il rifiuto di rivolgersi al medico e allo specialista poi in seguito? Ci sono casi, effettivamente, in cui non si vuole proprio ammettere questo problema si cerca appunto di nascondere ad esempio, quindi, ripeto, ad esempio, se il paziente magari ha andato la capacità, la capacità di denominazione usa tutta una serie di frasi per poter arrivare a quell'oggetto quindi, ad esempio, non mi viene in mente il termine penna o dico, mi può passare lo strumento che serve per scrivere il frezzo di carta per arrivare, e quindi, questi sono i primi campanelli d'allarme che chi sta intorno inizia ad avvertire però, naturalmente, non sono sempre immediati le capacità di riconoscimento per cui spesso si ritarda la diagnosi anche per questo motivo E nel caso in cui il paziente non vuole essere recarsi il familiare come si deve comportare? Nel caso in cui da parte del malato non ci fosse l'accettazione o la voglia di non recarsi da un medico il familiare come si deve comportare? E' un grave problema, perché è un grave problema anche di questioni medico-legali perché, naturalmente, finché il paziente è capace di intendere il volere Non puoi obbligarlo Non ci sono i TSO in questo caso? No, no, perché se non ci sono, diciamo, grossi disturbi comportamentali che mettono a rischio la salute stessa del paziente o la salute dei familiari quindi non ci sono situazioni acute di emergenza non si può obbligare, poi, insomma, chiederò magari proprio il confronto ad un avvocato, ad un magistrato però, insomma, a livello di logica è un grosso problema Si cerca di fare leva che forse sono anche, diciamo, gli strumenti più efficaci la convinzione, il convincimento rispetto magari proprio a un atto giudiziale insomma, in certe volte, però è un grosso problema Va bene Dottore, il tempo a nostra disposizione è già terminato io la ringrazio davvero per essere stato qua con noi e le rinnovo le congratulazioni da parte di Piave TV tutto lo staff in bocca al lupo per Washington Grazie, grazie Bene, grazie ancora e ricordo ai nostri telespettatori l'appuntamento con l'informazione e l'approfondimento di Piave TV alla prossima settimana, sempre su questa emittente ed ora buona continuazione di programma Grazie a tutti